Non ci rendiamo conto che le nostre scelte cambieranno tutto. Le scelte che fai rimangono. Ed è da quelle scelte che dipende la persona che sarai un domani. Infinite cose da fare in così poco tempo. Sì, ma se ci scoprono siamo morti. Tu capisci il casino in cui ci siamo messe. Mi piace sentire che puoi controllare tutto. Fare sempre quello che ti pare. Però attenta perché questo non è un giochino, eh? All'inizio Grazie.